Se le sceglie, è anche quella che fa più ridere, capito? C'è una tattica. Questa è la challenge. Prova a non ridere. Uno legge la barzelletta e l'altro deve provare a non ridere. Pierino viene interrogato dalla maestra. Pierino, ascoltami bene, io studio, tu studi e gli studia. Noi studiamo, voi studiate e si studiano. Che tempo è? Pierino le rispose. Tempo perso, signora maestra. Già sentito. Cosa mi consigli per aumentare l'intelligenza? La vitamina D. La vitamina D chi? Tanta, prendine tanta. Il bambino al papà. È vero che le carote fanno bene alla vista? È vero che lui parte sempre un po' così. Il papà. Certo figliuolo. Hai mai visto un coniglio con gli occhiali? Il figliuolo. No papà. Fine. Tutto e due. Perché gli elefanti non vanno mai in bicicletta? Perché non hanno il pollice per suonare il campanello? La maestra chiede a uno scolaro. Quali sono i mari che hanno il nome di un colore? Il mar nero, il mar rosso e il marrone. Che cosa fa un gallo in una chiesa? Il tic-tic-chic-chetto. Cosa fa un otto cani a largo? Canotto. Perché il pomodoro non dorme? Perché in frigo c'è l'insalata. Un carabiniere al collega. Vieni dentro che piove. L'altro carabiniere. Non ti preoccupare, piove anche qui fuori. In barca. Un carabiniere all'altro. Maresciallo, che pesci sono quelli? Squali. Squelli.